Amici ciclisti, appassionati, collezionisti, chilometristi, allora questa è la mia Pantera Rosa, è una Dogma Pinarello, una bici fantastica, ci ho fatto all'incirca 15.000 km ma è in ottimo stato, anzi direi che è come nuova. Questa bici abbiamo deciso con Fausto Pinarello, il presidente della Pinarello, di metterla a disposizione di chi se la vuole comprare e tutta l'intera somma ricavata dalla vendita verrà devoluta in beneficenza ad un progetto, a qualcosa che decideremo insieme, per cui insomma nei prossimi giorni lo sapremo, ancora non l'abbiamo definito perché è una decisione che abbiamo preso stamattina, quindi di fatto però il punto è questo, che se vi piace è bellissima, io ho amato molto questa bici, è un mezzo fantastico, è veramente, a parte che pesa come veramente leggera e poi a me ha dato delle grandi soddisfazioni, ci ho fatto un sacco di chilometri, vabbè niente, se c'è qualcuno di voi interessato ad averla esiste un solo pezzo di questa bici, unica, questo colore ce l'ha solamente la mia Pantera Rosa, mi fa molto piacere e quindi se avete voglia andate sui social di Pinarello, vi informeranno su tutta la questione, anche sulla destinazione dell'intera cifra, l'intera cifra che si riuscirà a ricavare dalla vendita di questa bicicletta a chi lo vorrà, che è stata mia, lo sarà sempre un po' perché ho amato molto questa bici, ma adesso è di chi la vuole, auguri!